idea zero ma quella roba demodè quando facciamo RTL 125 procediamo benvenuti a RTL 125 io sono e questo è posso dire una cosa a casa Alex come avere 10 persone perché ti rompe le scatole siete pronti? in questo momento dobbiamo andare via lui fa per 10 io voglio sfidare tutti quanti voi avere la Duran la bella che poi vedremo dopo la vera influencer la stella starlight la Leila con 4 bauli il trucco è parrucco mattutino quanto dura? 2 ore e mezza? 5 minuti? 6 ore? come il pianeta di interstellar però dillo ti preparo la valiglia ti preparo il look della giornata ti preparo ti preparo la colazione il pranzo la cena che cosa vuoi? infatti vorrei chiedere chi è che cucina in casa? tutti e due è una partita a tennis e lei fa tutta la parte quella sai healthy risottini 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 di pollo invece io spadello capisci spadello delle matriciane perché la matriciana è fatta con speck guanciale o pancetta fermi durana speck guanciale o pancetta tic tac tic tac pancetta che dolore atroce atrocissimo non era la pancetta non credo no che è simile al guanciale però ragazzi per i romani c'è il guanciale il guanciale va bene ma hai perdonato invece nella carbonara è pancetta tic tac tic tac volevo volevo piazzare un altro colpo ben assestato cosa vuoi te amore? vuoi parlare? no la bella lo sapeva perché ha risposto non so se avete sentito ho sentito un guanciale 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 no mamma mi hai sbagliato guanciale no e vi dicevo io cucino veramente robe non healthy perciò faccio tutte robe e poi sono un grigliatore fondale qual è il tuo piatto forte? il piatto forte è o spaghetto alle vongole verraci bottarga e scorza che tra l'altro è stato il piatto che mi ha conquistato è vero Durana ce ne volete parlare? era una notte buia e tempestosa alle 11 di sera io arrivo a casa sua e mi dice vuoi mangiare amore? e io sì cosa vorresti? qualunque cosa aglio, olio e peperoncino? ok no la pasta e le vongole sì io sono andato a pescare le ticelle direttamente le vongole da via mecenate nell'idroscalo di Milano sono tornato alle due bagnato fradigio e lì ho fatto una spaghettata fazzesca devo avere spadellato anche lei no Che tra l'altro ragazzi Le vongole sono afrodisiache Afrodisiache Quindi anche te te l'hai già pensata a priori Hai visto la mente brillante Bisogna segnare Ecco bravo Quindi è stato Un vantaggio Un punto al suo favore Comunque ragazzi Vi assicuro Che se spadellate La conquista Sei già a metà dell'opera Quindi te che sei a giocare a padel Sono tutti i tuoi piedi Spadelli anche te In questa villa ci sono un po' come la casa del grande fratello Ci sono le nomination C'è quello, c'è quell'altro Poi c'è la serata Tu sei stata nominata Però ce ne sono talmente tante Potresti anche così Lei lo sa Cosimo smetti da bagliare Noi avevamo in mente di farlo Questa cosa Mettere un paio di telecamere Fare i confessionali Ma guarda che è una idea meravigliosa Si presterebbe bene qua Il grande fratello sui social Ti prego Ti mando tutte le donne Tutte le mie amiche Subito Ovviamente Però loro non devono sapere Questa è la cosa La cosa Si trovano lì Come Squid Game Certo Alla Agatha Christie No fai firmare un contratto Alla Agatha Christie Si ritrovano tutti qua 20 persone Tanto chi li legge i contratti Ma infatti Fai la sottoclausola della sottoclausola Tra parentesi Sì esatto Comunque accetti di essere ripreso 24H Anche in bagno Ma io posso dirvi adesso Al di là di non dirlo Invece bisogna dirlo E bisogna dichiararlo Con telecamerine nascoste Così la gente non sa Perché il problema Del grande fratello È che comunque tu le telecamere Comunque le vedi In qualche modo Ti poni a favore Certo E secondo me Per il prossimo anno raga Oltre il podcast bellissimo Che state facendo Secondo me Un pensierino Ma spaccheremo Io farei il grande bordello Il grande bordello Il grande bordello Stando un bordello è veramente Il grande bordello è bello Il grande bordello Come punizione Tutti pensano di venire qua A fare la vacanza da sogno Nella villa da paura Portocervo Blablabla In verità Poi quando arrivano qui Fanno un giorno di festa E il giorno dopo Invece li mettiamo Tutti in salone In quel bellissimo salone Che avete E vi diciamo Ragazzi ma voi pensavate Veramente di venire qua A fare la vacanza No Ognuno di voi Qua in questa casa Deve guadagnarsela Perciò daremo un compito E dovrete Lavorare Cosa che non avete mai fatto Nella vostra vita Ma se invece All'improvviso Stire cena Con delitto Ci fosse un morto Finto ovviamente E tu vuoi sempre andare in galera Senza di te Assolutamente Sì No quanto sarebbe bello Vedere le reazioni Panico generale Cioè se l'hai organizzato te Quando sta per succedere Ti viene un po' d'ansia Comunque ragazzi Iniziamo il vero format Della giornata Voi pensavate di riprendere me Invece sono io Che riprendo voi Con questo bellissimo occhialino Inception 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 Dell'inception Dell'inception E qui abbiamo Bella Belli Dog Mi presento Bella Belli Dog Bella Belli Dog Stupendo Che oggi è proprio Una Barbie Bella Belli In tema col periodo filmico Cinematografico E tra l'altro ha fatto una Cioè Ha fatto un successone Perché abbiamo applicato Un video di DJ Bella DJ Bella Passesco Ce l'ho fatta vedere A favore di chiare C'era Peggy Che stava tremando Perché lei suonava Al pomeriggio E lì Al Dea Al Dea Swim Sì E stava rubando Diciamo La piazza Peggy Ha avuto più successo La Bella Che Peggy Go Bella Go Ce l'avete? Ce l'abbiamo Camera in mezzo Numero uno Ma c'è qualcuno Che la muove da sotto Fai anche il movimento Bella Belli DJ Presto In tutte le vostre BB DJ BB DJ BB DJ No dicevamo Big B Big B Come descrivereste oggi La vostra figura mediatica Sai Come ti dicevo prima A proposito della Sardegna Io ho passato varie ere L'era della televisione generalista Dei sei canali Solo RAI e Medias La figura mediatica È in continua evoluzione Non si è mai arrivati Non c'è un programma Che dice Ok perfetto Adesso no Il vero artista O comunque Il vero lavoratore Dell'intrattenimento È in continua evoluzione È un po' Quello che stiamo facendo Noi oggi qui Una volta c'erano le radio Poi adesso ci sono i podcast Certo Perciò Quest'anno adesso per esempio Tra poco inizio tale quale Sei in continua Evoluzione artistica Devi saperti adattare Anche i momenti Perché altrimenti Rimani indietro E ti perdi E poi il linguaggio Ecco il linguaggio Cambia totalmente Da medium a medium Dici? Sì Da medium Anche ogni cinque anni Ah ok Proprio cambia il metodo Di comunicazione Voi pensate Come erano i presentatori Solo dieci anni fa Come erano tutti Invece oggi È tutto buttato lì È tutto Sì 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 Cioè devi parlare Devi parlare con la pancia La gente Devi arrivare No? Devi sempre rinventarsi Qualunque cosa Cioè io per esempio Io la durano Raccontate Quando è che ci siamo conosciuti? Noi ci siamo conosciuti Quattro anni fa Sul sede Furare 2 Facendo una fiction Ok Da lì proprio Però ci vedevamo Solo come colleghi No ma eravamo Nell'era delle fiction Nell'era delle fiction Cosa che oggi Non esiste più E per assurdo Sì è vero La società con cui lavoravamo Le diverse società Tra l'altro con cui ho lavorato Non esistono Sono state chiuse Adesso praticamente È reality E sta diventando una fiction Certo È una fiction Io Sono Sono Una ragazza Che comunque Mi rinvento sempre Perciò Da GFina Magari da attrice Sono diventata GFina E adesso Sono una grande imprenditrice Chapeau Ma che paura La cura di imprenditrice Ho creato la mia linea Di costume Che si chiama Diva Milano Diva Diva Milano Diva Milano Ma più diva di lei E quindi Bella Se posso permettermi Bella è la numero uno Eh no Bella è sempre bella Bella di nomi di fatto No avete parlato Di fiction E di reality Oggi Nei reality Quanto c'è di real Quanto c'è di vero Guarda A differenza di tutto Luogo comune Che gira intorno a reality Calcola che io Ormai li ho fatti tutti Tu immagini Sono partito con l'isola Poi ho fatto GF Tentation Eccetera Tutti pensano Che ci sia un dietro le quinte Che ci sia un Deus ex macchina Che ci sia Che pisce una regia In verità Che ci sia un copione Che ci siano dei copioni In verità Sono programmi di accadimento Noi parlavamo prima appunto Di fare Un esperimento qua da voi Ecco Immaginate La vostra casa Sì Qua in Sardegna Buttiamo dentro Un tot di telecamere Un tot di persone Che magari non si conoscono neanche E li riprendiamo Ok In quel momento Noi non stiamo Dando dei plot A qualcuno Certo E questo è quello che succede Nella reality La fase autorale Si innesca solamente Magari non so Nella puntata In print time Dove loro prendono Degli accadimenti Li montano E li fanno diventare Protagonisti Ti faccio un esempio Quando tu vai Dentro al confessionale Cioè tu non fai domande Cioè tu non vai lì Dici scusami Ma allora cos'è che Beh lì Siamo noi che facciamo le domande Non sei tu E sono loro Che ti fanno domande Su un qualcosa Che è successo Ok Per guidare un po' Un esempio Magari io ti guardo male No? Nel salotto Sì Loro dopo cinque minuti Mi chiamano Magari io non ho neanche Parlato con te Ok? Mi chiamano Delia nel confessionale Vado al confessionale Perché hai guardato Pinco a pallino così? E tu le devi rispondere Perché mi sta sul cavolo Eh ci sta E ti è successo questo? Sì certo Si può dire con chi? Capirai Chi era la persona Che vi stava più antipati? Tutti Tutti No allora Diciamo che quando sono arrivata Tutti mi odiavano Perché l'argomento principale Era sempre Questo triangolo amoroso Che si era creato All'interno della casa E quindi Capirai Loro volevano sempre Essere i protagonisti Quindi appena sono arrivata Ecco Ci ha tolto No? Lei La Dele è arrivata Ci ha tolto tutto Il triangolo tra te Alex E Soleil Eh bravissimo E quindi Si è creato proprio Questo odio Nel mio confronto E l'unica che mi amava Era Mannilla Perché comunque Era sempre È stata Dalla parte delle donne Se ti dico esattamente Che mi stava sul cavolo Non lo so Però Tante Tante L'unica L'unica che No diciamo L'unica che mi stava sul cavolo Dico la verità È stato Soleil Ma non solo quella Ma anche la La Miriam Sì Paradossalmente Paradossalmente Dopo che È passato il programma Ci siamo visti Lei ha una parte Tenera Una parte simpatica Che Mi ha Sconvolto Dico Vabbè Magari Se è uscita A venire fuori Quella parte bella Sua Perché In realtà Ce l'ha Ok E da lì Ci siamo Ricredute Entrambe E adesso ci parliamo Adesso quindi c'è un rapporto Di amicizia 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 è una parolona Diciamo di conoscenza Di Il triangolo amoroso Come va Il triangolo amoroso Si crea sempre ogni tre mesi Ragazzi Non è mai finito Questo triangolo amoroso Ma con persone nuove Certo Ogni tre mesi Comunque arriva un'altra ragazza È giusto Per stimolare comunque Il rapporto amoroso Ci vuole È sempre questo Durante il GF Era uscito a questa cosa Della relazione libera Della amore libero Della amore libero Che tra l'altro abbiamo creato Anche il quadro Dell'amore libero Il quadro Il quadro Il pezzo Di tutto di più Anche il pezzo Il pezzo è bravo Il discorso dell'amore libero Non era In funzione del GF Certo Cioè era realmente Un nostro pensiero Condiviso tra me e Della Cioè come funziona L'amore libero Ma l'amore libero Non è solamente Una questione Solamente Prettamente sessuale È una roba proprio mentale Bravo Più mentale forse Perché oggi Oggi noi dobbiamo vivere Con la propria fidanzata Con la propria compagna di vita Cioè la libertà Di essere noi stessi La libertà anche di Poter uscire Stare bene Di conoscere amici Amiche Senza per forza Dover cambiare La nostra identità Il problema fondamentale Delle coppie Qual è? È che se tu Devi trasformare te stesso Per stare insieme a una donna Poi prima o poi Questa roba qua viene fuori Certo Capisci? E le coppie si rompono Litigano Cioè avere anche la libertà Di Magari sta passando Una bellissima ragazza E lui Condivide questa cosa Mi dice Che bella ragazza E questo è l'amore libro Per me Condividere qualunque cosa Con il tuo proprio compagno Anche perché Siamo attratti dal bello E dall'estetico Anche dopo Essersi fidanzati O essersi sposati È bello continuare ad esserlo Quindi non c'è gelosia In questo Diciamo che No La gelosia c'è sempre Abbassi il livello di gelosia inutile Quella gelosia morbosa Sì bravo Perché hai guardato quella là C'hai capito? Bravo Perché stai parlando con quelli Bravo Questo non esiste Non esiste Non esiste Che tra l'altro È stato Che tra l'altro Diciamo parlando Sempre del Del triangolo amoroso Che si è creato All'interno della casa Il grande fratello Non era il fatto Che lui si era avvicinato A A Soleil Era il suo modo di fare La sua personalità Che dopo La strada facendo Mi stava sul cavolo Vabbè comunque ragazzi È stato un bel cespuglio di schiaffi Predichiamo Predichiamo Ma comunque Cespuglio di schiaffi Sono sempre dietro l'anno Perché diciamo Che a livello anche di alchimia Di compatibilità sessuale C'è stato Diciamolo Sì mentale E adesso Empatico E adesso Te che rapporto hai Di amicizia Di Normale Normale Ma devo dirti che Allora io ho una grandissima Capacità di fare switch No? Finisce Finisce il programma Volemose bene È finito tutto Ragazzi andiamo a casa Ognuno torna per le proprie vite Anche perché Ricordo sempre I programmi televisivi Come il GF Sono una specie di Diciamo Parentesi Una bolla Che tu vivi lì Come qua La vacanza che fate qui Cioè succedono cose Poi ognuno di noi torna Roma Milano Si crea una bolla Quello che magari succede qui È dettato dal fatto Che magari abbiamo Una convivenza forzata Dentro una casa E poi Ognuno torna la propria vita E magari finiscono Queste cose Compreso le amicizie Anche le amicizie Ah sì Perché lì dentro Oh frate Quando viene a Milano Casa mia E casa tua Quando viene a Roma Uguale Non è vero Mai più sentito Quando viene a Milano Anche qua in vacanza Succede Conoscere persone Oh a Milano Ci vediamo Ci becchiamo Poi Sicuro Ma vedete Che le analogie Sono quelle È tutto un po' più pubblico Sì Lì Poi è tutto enfatizzato È solo ripreso Certo Cioè tu arrivi in puntate Dici cazzo Magari vedi un Rvm Di io e te Che magari stavamo giocando Che cazzo ne so A un certo punto In rallenty Con la musica Di 50 sfumature Di grigio E io che ti tocco I capelli In rallenty Che ti guardo E ti dico Ma quanto stiamo bene È lì parte Che vince È il romanzo È il romanzo Le critiche distruttive Construttive Comunque ci aiutano A crescere come persone Soprattutto Anche valutarci Come persona Perciò Io Paradossalmente Sul mio social Ho più Critiche Construttive Che distruttive Ma quelle fetta lì Mi aiutano Mi aiutano anche A essere meglio Perciò Ne vado fiera Ecco Che ci sia anche Una fetta di haters Su questo social Quelle critiche distruttive Che vanno anche sulla persona Ovvio Non sono d'accordo A quella distruttiva Dove magari Ci sono Offese Delle offese Magari Delle insulti Anche delle Amminacce Di morte Questo no Non è giusto E bisogna Lo vuoi dire tu C'è da fare Una distinzione Cioè nel senso che Allora Quando tu ti esponi pubblicamente Devi essere consapevole Questo lo dico a tutti Anche i ragazzi Che magari Vengono da me O ci incontriamo Dovete essere consapevoli Che nel momento In cui ci si espone Sia a livello Televisivo Social Eccetera Ti devi aspettare La critica La critica La critica È normale Non si può essere amati Da tutti Certo Anzi ti dico di più In taluni casi L'ipercritica Cioè Detta anche il successo Che stai avendo Perché Perché chiaramente Cioè vai a fomentare No? I famosi leoni da tastiere Eccetera eccetera Che comunque Sono i primi fan Alla fine sì Guarda che io ho trovato uno No ti giuro Ho trovato una persona Che tra l'altro L'ho sgamata Perché c'aveva la fotina Eccetera eccetera Che era quella Che mi faceva Delle critiche bruttissime Sotto i post Che poi in una serata È venuta a chiedermi L'autografo e la foto Che gli ho detto Ma tu non sei Sono i primi fan È verissimo A livello psicologico È dissonanza cognitiva È la volpe Che non arriva all'uva Come ve lo spiegate? Perché è stranissimo Come dinamica Ma è un processo Ma è un processo Secondo me psicologico Abbastanza particolare Come dicevi te Guarda se voi fate caso L'ethers è quello più attivo In assoluto Bravo Cioè i numeri Tu non li fai con chi ti ama Ma li fai con chi ti odia Ok? Cioè guarda io mi ricorderò sempre C'è un pezzo nel film Che abbiamo appena visto Di Elvis Bello Che a un certo punto Il suo manager Fa dei product placement Dei gadget Sì Con scritto Io amo Elvis Io odio Elvis Sì Così Sì che poi era Tom Hanks Dice Beh perché comunque Cioè gli haters sono tanti E allora ci dobbiamo guadagnare anche noi E questa roba qua Ti fa pensare Il fatto che Nel corso di tutta la storia Non solo di oggi Eccetera eccetera L'ethers È colui che Indirettamente Ti ama Ma perché magari C'ha una vita frustrata Ma vorrebbe essere tu Vorrebbe essere te Invidia Vorrebbe avere la tua vita Però gli stai sul cazzo Perché non ce l'ha Hai capito? Certo Ed è quasi aspirazionale Come cosa C'è un certo punto di vista A pensarci sì Uno per insultarti Offenderti Deve vederti Deve seguirti Deve conoscerti Sennò come fa Come cazzo fa a saperlo Quindi poi magari Cresce Vatura E alla fine diventa Quello che ti seguiva tanto Che ti vedeva tanto Perché è vero Però volevo aprire una parentesi Per quanto riguarda Una critica Attenzione Però se passi Devi mettere la faccia Se passi invece Oltre Io posso denunciarti Perché il tuo profilo Assolutamente Sotto una carta di identità Occhio Puoi vedere quello che vuoi Sei libero Sì ma c'era l'idea di mettere Per navigare in internet La carta di identità Eh sarebbe anche corretta Adesso navigare È difficile No sul social Scusi Ah sul social Cioè come noi facciamo La certificazione La facciamo pagare Adesso col bollino Bene perfetto Diremo via tanto Tutti i profili fake Che non esistono E mettiamo La carta di identità Per ogni profilo E tu vieni sotto E puoi dire quello che vuoi Bravo Ma anche nascosta Ovviamente la carta di identità Però nel momento In cui succede questa cosa Te contatti Facebook E loro ci pensano a vederla Esattamente Però il fatto è che Perderebbero anche molti utenti Perché c'è questo limite d'età Che loro ha messo Quasi perché doveva mettere Ma poi alla fine Eh non puoi Non puoi girare Sono più minorenni che altri Esatto Cioè se loro mettessero La carta di identità Tipo Instagram social 16 o 18 No mi sa 16 16 16 in su Quanti ragazzini Di 14 15 anni ci sono O che in qualche modo Le regolamenti Abbassi l'età Minima Potresti fare 12 anni 13 anni Capisci Però sì O veramente Li perdi Chi se ne frega Per noi sarebbe il top Eh però Pensaci Non è male come idea E io avevo Business Un casino Avevo una domanda Qual è il modo migliore Secondo voi Per gestire Queste Queste andate di odio Sia che siano costruttive O distruttive Ma io dico sempre Se sei in un grande Momento di esposizione mediatica Non leggere niente Non leggere niente Perché se Cominci a leggere Ti entra dentro I tarli Le robe Io guarda Quando eravamo dentro A grande fratello Anche lei Io ho detto Amore Staccati da tutto Cioè Staccati dai social Da Instagram Perché Perché Ti entrano dentro C'è certe cose Poi Certe frasi Anche se le leggi così Sono dei verbi Non leggerli Questo è il messaggio Non leggere i messaggi Invece lei ha fatto Il esatto contrario È difficile Allora posso dirti È difficile È difficile vero Di essere Menefreghista Su questo punto di vista Credo che Non lo farebbe nessuno Perché L'occhio va lì Sempre È per forza È un tarlo Ti si installa il testo Io sono molto curiosa Quindi vado lì a leggere Per forza devo leggere Però sì Cercare di Di no A sommitizzare Ecco queste Queste cose Prenderle in modo Un po' più analitico Più leggero Stanno dicendo Rimangono lì Capire che Non sono dei capi Dei datori di lavoro Dei colleghi Cioè gente a caso Magari uno Gigino il panettiere Che scrive cavolato E finché se ne parli Vuol dire che Stai facendo la cosa Nel bene o nel male È importante che se ne parli È importante che se ne parli Finché la gente parla di te Vuol dire che stai facendo La cosa giusta Parla di te Ma invece fake news E speculazioni Come le gestite? Ma guarda Io l'anno scorso Per esempio Ogni settimana Ero in un programma diverso Cioè uscivano notizia Non so Tentation Island Alex Belli E Tentation Island In qualsiasi programma Ero Però ti ripeto Il web gioca Tantissimo Su questa roba qui Cioè per fare numeri oggi Molte testate O insomma Comunque pagine Che trattano questa cosa qui Prendono una notizia Inventata E te la fanno girare Come se fosse vera E chiaramente fanno numeri Perciò che cosa Gli vuoi dire? Poi tanto Poi Io a volte Manco li smentisco Dico intanto Quello che è Ne ho sentite Cioè guarda In quell'anno Che non mi ha fatto il GF Ne ho sentite Di tutti i colori Avrei dovuto Prendere Tipo un team Di avvocati E cominciare a fare Capisci La controcampagna Poi a un certo punto Posso dirvi Vivi e lascia vivere È Jerry Scott Che ogni anno Tipo Morto Sempre Infatti Un saluto a Jerry Poi ogni anno Se non muore qualcuno Per finta Non siamo felici Ogni mese ormai Siamo arrivati Vogliamo far vedere Il coniglietto Sì che fa Bella No la canguretta La canguretta Vieni qua Mettila lì sopra Mettila lì Mettila lì Vai vai Sì sì Dai seduta amore Brava Bella Canguretta 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 Aspetta Canguretta No Ancora Canguretta Canguretta Brava amore Un applauso bello Brava bella Carina Dalla folla Ma anche la zampa Dalla zampetta Cinque Vero amore Bravissima Poi A parte qualche lamento Ogni tanto La metti No ma quella parla No e poi lei parla Vuole essere il centro L'attenzione L'avete visto anche prima Wow 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 Girare in qua Ma parla quando vuole lei Eccola Che 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 è bella Che 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 Muore Che bella Un Grande grazie a Bella Belli DJ Per queste parole Toccanti Motivazionali Presto fuori Il disco d'oro Bella DJ Bella Bella DJ E' un peluche Non si muore Che Che Quei peluche Quelli motorizzati Sì E gli animatronic Ah bravo Fabio Night and Fred Bellissimo Qual è stato il momento In cui vi siete guardati Allo specchio E avete pensato Ce l'ho fatta Pagarmi da solo Quattro Io vado indietro Un po' di anni Nonostante Il curioso caso Di Benjamin Belli Ma c'ho già Quarant'anni Passato In verità Guarda Io Sono nato Come musicista Poi a un certo punto Per diversi Diciamo Incastre di vita Vado a fare Sono andato a fare L'attore Ho fatto otto anni Su a Torino In questo prodotto Che si chiamava Cento vetrine E mi ricordo Questa cosa Perché Ero Praticamente I primi anni Che sono andato in onda Su canale 5 Quando comunque Appunto C'erano Cinque reti Sei reti Basta Nel momento in cui E' andato in onda Le prime puntate E sono andato a fare La spesa All'esse lunga No A un certo punto C'è tipo Entro dentro E allora poi Era molto più forte La pressione mediatica Quando facevi qualcosa In televisione E tutto Le cassiere Queste Cioè Le signore che c'erano Arrivano da me Io Il giorno prima Era un perfetto sconosciuto Ma Nessuno E il giorno dopo C'è Venivano Capisci Stranissimo Ma tu sei Jacopo Castelli Ma tu sei questo Tu sei quest'altro Avanti niente Tutta la gente Intorno Capisci In una semplice S lunga A Ivrea Perciò Non eravamo neanche A Milano A Torino E in quel momento Ho detto Cazzo Ma allora Porca troia Cioè La mia vita È cambiata Non è più come prima Che allora Ero Nell'anonimato Comune Uno come gli altri E questa roba qua A me Mi è rimasta impressa Perché Chiaramente Ti cambia Il concetto di vita Che bello Da un giorno all'altro Da un giorno all'altro Il giorno prima Eravamo andati in onda Con la prima puntata Io lo dico sempre Se io avrò mai Un cielo fatta Sarebbe lo stesso tuo Poi attenzione Quello era un punto di partenza Assolutamente Assolutamente Non era Ah che bello Cazzo che figo Assolutamente No Una volta in cui l'hai pensato Non è un sono arrivato Ma allora è cambiato Cioè è cambiato tutto No È proprio Uno spartiano Cioè ce l'ho fatta Non è sono arrivato Ce l'ho fatta E cavolo Sono arrivato a una roba Che tra l'altro Io non avevo cercato Cioè io non ho mai cercato La popolarità A questa roba qua Cioè A me piaceva fare Quel lavoro lì Ero per uscito Con Fioretta Amare Di fare un prodotto A teatro Che era un musical E mi sono trovato A fare questa cosa Perciò non è Che io aspiravo Dicevo cazzo Voglio diventare famoso Voglio che la gente No Non era quello Il mio obiettivo In quel momento E perciò Questa era La mia esperienza A 27 anni Più o meno E per me Dopo aver fatto L'università Dopo aver fatto La modella internazionale Wow Per me Dieci anni fa Ho detto Ce l'ho fatta Quando le ho comprato La casa mia madre Che bello Che bello Che bello Vai Applausi Complimenti Hai imparato il tasto Perché abitavamo In una casetta piccolina Facciamoli placare Pian piano In casa di mia sorella E ho detto Siccome Tra me La mia sorella Non è che abbiamo Un bel rapporto E lei sempre Tutte le volte Non gli piaceva mai Niente di me E quindi Ho detto Prima o poi Vedrai Vedrai che ce la farò E mia madre Ci teneva tantissimo Che io facessi qualcosa Nella vita E quindi Sono orgogliosa Di aver fatto Il mio primo obiettivo Che era Comprare la casa mia madre Ce l'hai fatta Ce l'avete fatta Ognuno Ce l'ha fatta Bello così Alex Delia Grazie per queste chiacchiere Grazie per aver condiviso Le vostre storie I vostri pensieri Grazie a voi ragazzi Grazie a voi Allora io vi aspetto Per il prossimo anno A The Big Bordello The Big Bordello Grazie mille anche a voi Da casa per averci seguito Spero che la puntata Vi sia piaciuta E noi ci vediamo Alla prossima Bella Alla prossima